Mentre la città è ferma, il sindaco si muove e cambia idea. Dopo aver pesantemente criticato in passato le spese di staff, adesso assume subito come primo atto amministrativo di rilievo 5 collaboratori full time e 2 part time che cureranno la sua immagine e segreteria. A dichiararlo il consigliere comunale di minoranza di Ponte Cagnano-Faiano, Francesco Pastore, mentre casa Parrilli è sempre più isolata e anche le strade adiacenti vivono nel caos, afferma, nessuno si preoccupa di fornire risposte sui tempi di riapertura del sottopasso ferroviario e del tratto di via Torino e sul liter del progetto per il sottopasso pedonale. Mentre la nostra città vive una preoccupante crisi per la raccolta di rifiuti, nessuno si prodica per trovare soluzioni alternative. Poi il consigliere Pastore accusa sulla procedura di assunzione per i 7 collaboratori. Per carità, nulla di illegittimo da parte del sindaco Lanzara e niente contro i neostaffisti, ma in questo momento sono sicuramente altre le priorità per Ponte Cagnano.